E' l'appuntamento più raffinato e glamour di fine estate per Cortona, dove per l'edizione 2018 di Cortona Antiquaria sono arrivate opere rare e bellissime. 29 gli antiquari provenienti da tutta Italia, la mostra andrà avanti fino al 9 di settembre. Antiquari che rappresentano le eccellenze nazionali ma anche internazionali, quest'anno ci sono anche antiquari che vengono dalla Spagna e da altri paesi dell'Europa. Un evento importante perché rappresenta l'arte in una forma diversa e la manifattura in una forma diversa, che è appunto quella dell'antiquariato, degli antichi maestri artigiani che attraverso i mobili, attraverso la pittura, attraverso lo gestisica costruivano quello che è la bellezza e le bellezze del nostro paese. Cortona è orgogliosa ancora una volta di ospitarli. Il viaggio tra le sale del settecentesco Palazzo Vagnotti riserva varie sorprese con una immersione nella storia millenaria dell'arte italiana e con una vasta gamma di specializzazioni con antiquari che propongono dipinti di alto livello dal XVII al XVIII secolo, argenti antichi, mobili francesi, stile impero, sculture, antichi gioielli, oggetti in ferro battuto e molto altro. Ci sono dei pezzi importanti, voi potete vedere una scultura in agata con rappresentato Alessandro Magno di profilo insieme al figlio e dall'altra parte scolpito la figura di Zeo Salmone. Abbiamo dei dipinti, una bella natura morta di Pietro Navarra che è un pittore romano del Seicento. Insomma, le cose ci sono e ce ne sono tante.